La Sindone, un messaggio universale rivolto a tutti. Nel centro di Roma, l'oratorio del Caravita torna come ogni anno dal 1975 a essere il cuore della sindonologia italiana. Attraverso otto incontri si interrogerà il mistero del lenzuolo conservato a Torino dal 1578 e che, secondo la tradizione, avrebbe avvolto il corpo di Gesù deposto dalla croce. Non più terreno per iniziati, ma campo di interessi a 360 gradi. La Sindone intuitivamente parla. Certo, ci vuole una scelta più specifica perché ci sono tante distrazioni, ma se appena si superano un po' le distrazioni la reazione è ancora sempre commovente. Tra medicina legale ed esegesi, tra kerigma e liturgia, il percorso animato da illustri studiosi e predicatori e che andrà avanti ogni sabato fino al 13 maggio mira fondamentalmente a mettere al centro il messaggio custodito dal Sacro Lino. Vogliamo offrire proprio alla città di Roma la possibilità di riscoprire e di vivere in maniera nuova tutto ciò che è stato detto intorno alla Sindone, partendo da un assunto che si è detto appunto che la Sindone è il segno del crucifisso risorto. Grazie. 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 Grazie.